Si punta a ripristinare la strada e la viabilità non solo all'altezza della frana nel comune di Cetara ma lungo tutta la statale della costiera amalfitana e quanto potrebbe essere disposto da lunedì prossimo 13 gennaio per la strada statale 163. E' stato già annunciato questa mattina nel corso del sopralluogo congiunto di ANAS, protezione civile, comuni costieri e il genio civile per valutare la riapertura totale della strada. Stamani partendo da Cetara nei pressi dell'hotel Cetus un sopralluogo sul posto con una prima tappa al cantiere interessato dalla frana e dallo smottamento. Quella di oggi una giornata di incontri e tavoli tecnici mentre ci attesa per domani mattina quando alle 9.30 arriverà in costiera il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola per un sopralluogo sui luoghi colpiti dai fenomeni di dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre scorso ai cantieri aperti sulla strada statale amalfitana a partire da Cetara, Lhotel Cetus, Maiori, Capodorso e Amalfi a Vettica. Borrelli e Bonavitacola saranno accompagnati dal direttore generale della protezione civile della regione Campania Italo Giulivo che anche questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Cetara con il sindaco Roberto della Monica. In questo momento la giunta regionale ha messo a disposizione 8 milioni di euro per fronteggiare le situazioni più imminenti, quelle che riguardano l'assistenza alla popolazione e il ripristino dei servizi essenziali tra i quali il ripristino della transitabilità sulla strada statale 163 che è strategica per i collegamenti ovviamente della costiera amalfitana. Stiamo intervenendo, siamo oggi insieme ad ANAS, al capo dipartimento per verificare lo stato dei cantieri aperti qui a Cetara, Maiori e ad Amalfi per dare tempi certi sulla riapertura della strada. Nel pomeriggio ci incontreremo anche con il presidente De Luca presso il genio civile di Salerno dove è istituita una unità di crisi per le problematiche della costiera amalfitana insieme ai sindaci e domani ci sarà anche il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli che prenderà visione di quello che è successo sulla costiera amalfitana. Una situazione veramente molto complicata ma ne siamo scendi. Io naturalmente come primo cittadino mi sono preso una responsabilità molto elevata e che come sa fino a domenica sera la strada ufficialmente è chiusa ma io l'ho fatta aprire già da molto tempo sia per non creare disagi ai bambini che devono andare a scuole di Salerno, sia chi deve andare a lavorare quindi ho fatto aprire la strada già molti giorni fa. Naturalmente siamo qui al Cetus come ben avete visto con il direttore generale della regione Campania e la protezione civile, il dottor Giulivo, il capo compartimento dell'ANAS, il genio civile di Salerno, la ditta che sta facendo l'orismo in urgenza per coordinare perché l'obiettivo che ci siamo prefissi è che vi do già la notizia in anteprima incrociando sempre le dite perché lunedì mattina dobbiamo aprire ufficialmente la strada non solo qui nei pressi dell'hotel Cetus ma anche tutta la costiera amalfitana e quindi i tratti anche a Capodorsi e anche ad Amalfi, infatti successivamente andranno lì a fare ulteriore sopralluogo. Domani poi c'è una riunione molto importante, qui verrà Cetara e poi vedrà anche gli altri posti dove purtroppo tra il 20 e il 21 dicembre abbiamo dei danni importanti, verrà il direttore generale del governo per la protezione civile, il dottore Borrelli insieme a dottor Giulivo e insieme al vice governatore Bonavitagri per vedere i posti dove purtroppo abbiamo dei danni importanti perché al 99% la settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe riconoscere calamità naturale queste frane che sono successe nel mese di dicembre.